a internet festival 2024 una delle musiciste più interessanti del panorama italiano e non solo maria chiara argiro porti qua il tuo ultimo disco closer un disco che ho letto tu hai realizzato cercando di essere più possibile vicina a te stessa ma come quanto è difficile rimanere se stessi in questo mondo così complicato è molto difficile però ci si prova attraverso la musica la ricerca del proprio mondo sonoro e io mi ritengo molto fortunata comunque vivo a londra da tanto tempo e ho la possibilità di sviluppare un po quella che è la mia ricerca del suono se sei nata in italia poi come mi dicevi prima sei fuggita a londra come mai questa decisione non sono fuggita proprio sono sicuramente una persona estremamente curiosa mi sono incuriosita ho sempre voluto fare esperienza al di là diciamo del paese del nostro paese italiano e che comunque sicuramente mi manca mancano assolutamente certi legami e però ho voluto esplorare nuovi confini soprattutto musicali quindi è stato anche un quasi un caso finire a londra io avevo scelto una città per studiare un anno in questo caso londra e sono più di dieci anni che sono sono inghilterra ecco questi ultimi in questo ultimo periodo sei un po esplosa suonato dappertutto a glastomburi in america addirittura fortette ti ha messa fra le sue preferite lui che insomma è un mito veramente della musica elettronica insomma è bello questo riconoscimento anche se come dicevi in un'intervista ti senti un po aliena in italia tornare in italia ma è sì a volte insomma secondo me è una questione di abitudine io sono abituata a un certo tipo di suono sicuramente in inghilterra a londra c'è più abituati sia più anche quasi esposti più che abituati e sono stra felice di suonare in italia e quindi di offrire anche un altro tipo di sonorità che comunque stra presente in italia ci sono artisti artisti che sento veramente molto vicini alla mia alla mia sonorità artisti italiani vanno scoperti ecco questo è sicuramente forse la differenza tra i due paesi magari in inghilterra a londra si è più esposti ad un certo tipo di suono anche grazie alle radio nazionali come bbc radio 6 che ti bombarda di queste sonorità comunque che sono considerate normali magari in inghilterra e forse in italia ancora un po alienanti tra virgolette però appunto ci sono tantissimi festival tantissimi promoter che veramente si stanno dando tanti proprio da fare per portare queste nuove sonorità anche in italia quindi è più che altro il mio discorso di è sentire un aliena è più perché spesso mi viene attribuito un po il proprio l'aggettivo aliena però io non mi ci sento io cerco di portare un po il mio mondo che ovviamente è stato influenzato dalle sonorità UK dalle sonorità inglesi e però sono italiana quindi ovviamente ci tengo a tornare in italia e a portare anche il mio racconto italiano mescolato alle sonorità inglesi ecco senti parlando del tuo disco Closer ha un po due anime secondo me un'anima molto morbida con suoni che ricordano James Blake e Sampa e poi c'è un lato un po più non lo so crazy che si avvicina più ai moderate un po e quando si aprono magari i fiati si sente i jazz che ha studiato per tanti anni quindi sono un bel mix di tante sonorità diverse eh sì no hai centrato sicuramente anche la mia personalità che è comunque un mix di tutte queste queste sonorità di tutte queste influenze e io provengo da una scuola ovviamente jazzistica ho studiato jazz i musicisti con cui suono vengono da quel mondo però negli anni ho sviluppato anche una estrema curiosità nei confronti del mondo della produzione e la ricerca proprio dei suoni la ricerca proprio di appunto un'elettronica che potesse spingersi un po' a tingere in tutti questi diciamo generi dal jazz alla forma canzone all'elettronica appunto alla moderate però ecco questo è il mio mondo ed è vero che ci sono due anime anche io sento la stessa cosa quindi grazie senti negli ultimi anni in Italia abbiamo visto emergere musiciste come Marta del Grandi, Daniela Pess ora anche te siete preparatissime avete studiato tantissimo e vi prendete giustamente i meriti del vostro lavoro ti sembra che si stia muovendo qualcosa che questa nuova generazione di musiciste sia veramente forte in un certo senso ma io penso che ci siano sempre state musiciste molto preparate e molto forti sicuramente adesso c'è una nuova corrente c'è forse un'esposizione ulteriore a questo tipo di musica e mi sento fortunata io mi sento sempre anche che appartengo o non appartengo a tante di queste correnti però ben venga perché ovviamente avere anche questo tipo di fortuna di poter suonare in giro non fa altro che incoraggiare anche altre musiciste a poter raccontare il proprio mondo e questo secondo me è estremamente importante perché non ci si deve fermare soltanto a Maria Chiara, a Marta, a Daniela ma ce ne sono tantissimi di musicisti e musiciste valide in Italia e insomma al di fuori anche dell'Italia forse questa esplosione di musica che ormai esce fuori da genere difficile oggi inserire un disco in un genere preciso è dovuta grazie anche appunto a internet, alle reti, dei social network perché ormai in qualsiasi luogo del mondo tu viva venga dalla Sardegna come dall'India la musica può arrivare, arriva ovunque ormai sì sicuramente e sicuramente ovviamente appunto si è più esposti ad un certo tipo di sonorità i social network aiutano a spingere questi nuovi suoni, nuovi mondi che non sono poi nuovi è semplicemente sì un nuovo tipo di raccontarli sicuramente però sono strafelice che stia accadendo adesso, è molto importante, molto importante poi ovviamente siamo in un periodo storico in cui appunto non penso sia più importante parlare di generi per me non ha più senso e quindi ben venga che esista questo tipo di musica in cui non ci siano definizioni un'ultimissima domanda, volevo chiederti se come musicista ti senti libera e se la libertà ha un prezzo perché spesso i musicisti vengono condizionati da tante cose, dalle mode ma non solo anche da il dover produrre continuamente io che insomma mi capita spesso di intervistare giovani musicisti a volte li sento un po' stretti fra le maglie di tante situazioni in cui si sentono obbligate a dover rispondere ma io mi sento libera e ho deciso proprio anche di fare un percorso musicale fin da bambina senza dover seguire per forza sai la strada del conservatorio ho fatto il mio percorso, ho studiato in Inghilterra, al conservatorio in Inghilterra l'ho fatto però comunque ho sempre, sono sempre stata abbastanza testarda nel voler non per forza seguire le mode ma seguire più che altro un mio percorso e in questo senso questo mio diciamo modo anche di agire mi ha dato libertà quindi io mi sento estremamente libera ovviamente siamo tutti schiavi del mercato siamo tutti schiavi del appunto dover per forza continuamente pubblicare musica però sono io che alla fine decido se scrivere o no musica nessuno mi mette veramente la pressione la mia etichetta non mi ha mai detto tra due anni devi scrivere un album la sento e attorno a me è in giro questa pressione però poi sono io a decidere se se veramente scrivere musica e per me la musica è un qualcosa di talmente serio e deve essere proprio sentita non riuscirei mai a fare una musica che non sento e che non viene dal dal mio diciamo profondo dalla mia consapevolezza quindi per me è estremamente anche importante a livello di mental health cercare di non vedere queste pressioni è un po' un trick un modo di riuscire a insomma dire ok sì ci sono le pressioni però io comunque continuerò a fare quello che voglio altrimenti avrei fatto anche un altro tipo di percorso grazie a tutti